Io sono quasi già arrivata al nome, guarda. È una burba! Ed è di Mediaset. No, 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 no. No, scusa, Grecia. Ma chi è? Ma chi è? No, non si può dire. Sono due. Ah, sono due addirittura? Eh, sono due che mi piacciono, no? Distinto. Due, due persone che... Ma cioè avete avuto modo di uscire, di frequentare... No, niente, niente. Ah, quindi è un amore platonico. No, perché lui l'ha detto, è un amore platonico. Esattemi, mandate dentro al confessionale Fiordaliso, per piacere. Adesso che tanto non siamo ancora in zona nomination. Fiorda, vieni, raggiungi un attimo là. Fiore, fiore, fiore tremenda. Dio, hai viene. Ma ascolta, e... No, ma Alfonso, non mi mettere in mezzo. Io, io ci ho... No, fammi capire, dimmi, ma tu che idea ti sei fatta di sta roba? Ah, che secondo me gli piace un presentatore leggermente più giovane di lei, che lavora qui a Mediaset. E chi sarebbe sto presentatore? Dio, Dio, no. Hai capelli bianchi? Oh. No, 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 no. C'è due, hai detto due. Due addirittura. C'è uno... Presenta qualcosa qui a Mediaset. Adesso ci penso e poi te lo dico, non lo so ancora. Ma è alto o è basso, Grecia? Le persone, il secondo è alto.